Prosciutti in cambio di droga. La singolare vicenda accade a Castiglionfiorentino, protagonista un 39enne originario di Signa in provincia di Firenze, ma residente a Cortona. L'uomo aveva messo in piedi un vero e proprio traffico illecito di prosciutti a danno del reparto macelleria all'interno del supermercato Penny di Castiglionfiorentino. È stato un vigile fuori servizio ad avere i primi sospetti vedendo un'auto di domenica mattina ferma di fronte allo store ancora chiuso. Il direttore del supermercato e il responsabile del settore hanno confermato strani ammanchi e così è partita l'indagine. Circa due prosciutti a settimana mancavano dal magazzino, ma non solo questi, anche birra e forme di formaggio. Al momento in cui un addetto alla macelleria è stato notato caricare in macchina due prosciutti, sono intervenuti gli agenti della municipale e dopo la perquisizione è stata ritrovata altra merce, birra e latte. Di fatto il dipendente B.A. di 39 anni con problemi di tossico dipendenza ha dichiarato che le somme ricavate dalla vendita della merce sottratta servivano per procurarsi lo stupefacente. Per lui è scattata la denuncia per i reati di furto e appropriazione in debita aggravati e continuati. Le indagini proseguono per individuare i ricettatori della merce, a quanto pare anche buongustai.